Sono Tiziana, faccio l'erborista e abito a Torino. Io sono iscritta al percorso intensivo Vita Straordinaria, quindi come Patrizia ha pubblicato questa proposta, io ho aderito immediatamente, non vedevo l'ora di conoscerla. Sicuramente per incontrare Patrizia dal vivo e poi perché mi chiamava questa esperienza con il gruppo. La percezione di me stessa, io ho proprio cambiato la percezione di me stessa, come mi percepisco e come mi vedevo e come inizio a vedermi adesso. Io in questi giorni ho imparato a gestire le mie emozioni equilibrandomi con il gruppo e ad ascoltare, e ad ascoltare me stessa, ad ascoltare l'armonia che mi circonda. Mi porto a casa l'energia del gruppo che mi fa stare bene e mi aiuterà anche durante la mia quotidianità. Quello che ho scoperto con questa esperienza mi servirà tantissimo intanto nell'ascolto verso me stessa, verso le mie percezioni ed emozioni e successivamente all'ascolto verso gli altri. Quindi mi porto a casa un grande bagaglio di ascolto. La mia vita si potrà trasformare grazie a questa esperienza perché ho visto già la trasformazione dopo il primo giorno. Quindi sicuramente sarà un continuo e un miglioramento costante. Non sarà mai più come prima la poca fiducia delle mie risorse. Tutta l'esperienza io la descriverei con il termine intensità. Fatti, grazie. È stato magnifico incontrarti e conoscerti dal vivo. Grazie.